Il mondo della ristorazione e quello dell'accoglienza turistica piangono la scomparsa di Francesco Giusti, deceduto nella serata di martedì all'età di 86 anni per cause non legate al coronavirus. Imprenditore e illuminato, molto conosciuto e stimato nella sua città a Viareggio e nel resto d'Italia. Lascia la moglie Carla, i figli Francesca e Vittorio e due nipoti. Ha iniziato la sua carriera giovanissimo nei servizi alberghieri negli anni 50 in Italia e all'estero per poi dirigere vari hotel in Versilia, tra questi il Capri, Panoramic e Royal e per oltre due decadi il ristorante Margherita, ospitando grandi personalità della cultura e dello spettacolo oltre a politici di primo piano dell'epoca. Nella memoria di molti viaregini sono rimaste leggendarie le rassegne enogastronomiche nazionali che Francesco ideò e organizzò a inizio degli anni 80 e che portarono a sfidarsi al Margherita di Viareggio i migliori talenti delle cucine regionali italiane. Fu anche precursore della cultura dell'olio extravergine di oliva, introducendo per primo nel suo locale, il Margherita, la carta degli oli extravergini e la figura del sommelier dell'olio. Francesco Giusti continuò poi con passione la sua opera di diffusione come ospite in molte trasmissioni sui canali nazionali, promuovendo le degustazioni degli oli, oltre a essere autore del libro Olio amico mio. Francesco era una persona affabile e di grande onestà. Lascia a tutti noi una grande eredità, quella di guardare al futuro con ottimismo anche nel momento delle avversità, mantenendo fermi i principi dell'etica, dell'amicizia e del rispetto reciproco.